Hai dormito sabato sera pensando al gol di Mancosu? Questa è una domanda difficile, sicuramente ci siamo fatti trovare impreparati, potevamo fare di più e evitare quel gol, però ormai è successo, quindi si va avanti e pensiamo già alla partita successiva. Si dice ormai che la vera forza del Teramo sia nel gruppo, come avete preso voi il gesto di Lapadula di lasciar battere il rigore a Petrella? Sicuramente Gianluca, prima di essere un calciatore, sicuramente un grande uomo, l'ha dimostrato non solo domenica ma in molte altre partite, sapevamo che faceva quel gesto perché comunque ha dato forma di aiutare anche il compagno che non ha molta condività come Petrella, quindi è stato un bel gesto. Sabato arriva il Sant'Arcangelo, poi ci sarà il derby contro l'Aquila, si avvicina il momento decisivo per la stagione? Sì, noi pensiamo di partire in partita, ora c'è il Sant'Arcangelo che non è una partita assolutamente facile, quindi dobbiamo riunirci tutti, preparare bene questa partita e allenarci benissimo. Cosa è cambiato in difesa, se è cambiato qualcosa con l'inserimento di Kaidi al posto di Iachite? Sicuramente Iachite non era da meno, però il mister ha fatto delle scelte, ora Kaidi sta facendo bene, quindi dobbiamo accettare tutti, ma siamo tutti allo stesso livello, quindi ci giocheremo il posto di giorno in giorno, quindi di ogni settimana, come sempre. Le parole serie B sono entrate nello spogliatoio? No, ancora no, ancora non vediamo la classifica, ne parleremo più là.